Ehi, ciao a tutti, siamo Soul System, siamo qui a Roma, attraverso, ci stiamo diventando un botto, sono qua, la festa, la festa, ma che festa, dà c'è, io, sono qua, ragazzi, sono qua, ragazzi, sono qua, ragazzi, sono qua, ragazzi, sono qua, that's right, Soul System, Soul System, Soul System, sono qua, yeah, that's what we do, anche lui del Soul System, c'è le vieni, anche tu vieni, vieni, vieni dentro, foto, 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 dai, vai, vai, Soul System, the sound dude, you have been wrong, I'm the keyboardist, he's the guitarist, he's the vocalist, drummer and bassist, Soul System. Gigi Man Bulldozer, yeah, whoo, Roma, gini, jali, Oh, Giulia, ma dopo tutti questi video qua, li vedremo o sei come il giglio che li tiene sul telefono? Mmm, vedremo, vedremo. Gigi Man Bulldozer, yeah, come il giglio che li tiene sul telefono?